Iniziamo da oggi la nostra protesta per portare avanti quello che è il nostro obiettivo, per cercare di raggiungere questo obiettivo, ossia quello della relazione intermunicipale dei vigili urbani, dei dipendenti della Polizia Municipale, dei dipendenti di uffici tecnici comunali ogni tre anni da un municipio all'altro. Abbiamo fatto richiesta da un anno e mezzo al sindaco di Roma Gianni Alemanno, ma purtroppo dopo aver demandato a Enrico Cavallari, assessore al personale, la risoluzione di questa vicenda, non abbiamo avuto risposte. Stiamo attendendo inutilmente e siamo stati costretti a riprendere la nostra forma di protesta. Non a caso oggi iniziamo dalla sede del quotidiano più bersagliato dal regime, ossia la sede del quotidiano La Repubblica e purtroppo è una richiesta da cui non si può prescindere perché è arrivato il momento di risolvere il problema della corruzione di alcuni dipendenti della Polizia Municipale e alcuni dipendenti degli uffici tecnici comunali che sono rei di omissioni e illeciti nell'esperitamento della propria funzione. Questo per garantire la trasparenza e l'imparzialità nell'esperitamento delle proprie funzioni come garantito l'articolo 97 della Costituzione italiana e in secondo luogo per garantire anche l'immagine stessa del corpo di rivoluzione municipale dove ci sono anche tantissimi dipendenti, cioè la maggior parte, che svolgono il loro lavoro, adempio i loro comiti istituzionali con grande abnegazione, senso del dovere. Perciò questa è una vergogna che deve sparire. Il sindaco Alemanno deve darci questa risposta. bisogna trasferire ogni tre anni da un municipio all'altro per evitare collusioni sul territorio in maniera preventiva i dipendenti della Polizia Municipale e i dipendenti degli uffici tecnici comunali. Questa è una cosa, ripetiamo, da cui non possiamo prescindere. Noi come Movimento Italia dei Diritti sicuramente saremo in prima linea e oggi iniziamo, ripeto, proprio da qui della Repubblica. Questa forma di protesta eclatante che seguirà un incatenamento tour. Andremo in giro per le varie sedi, fino a prisione della Capitale, per poter ricevere finalmente una risposta e riterremo da oggi il sindaco e la giunta comunale responsabile politicamente di qualsiasi atto illecito che verrà contestato eventualmente a dipendenti di questi comparti lavorativi.